Era il 2017 quando la giunta regionale, capitanata da Luciano D'Alfonso, procedeva all'affidamento del trasporto pubblico locale Attua, la società unica per il trasporto abruzzese. Contro quella delibera ricorsero numerosi operatori privati, tentando di riappropriarsi di quote di libero mercato. A distanza di cinque anni però, il Tar ha legittimato l'operato dell'allora giunta regionale, respingendo tutti i ricorsi presentati dalle società di trasporto private. Proprio sul merito di questa sentenza sono tornati il senatore PD Luciano D'Alfonso e l'onorevole di Italia Viva Camillo D'Alessandro, all'epoca dei fatti rispettivamente governatore e sottosegretario ai trasporti della regione Abruzzo, domandandosi il perché del clamoroso silenzio dell'attuale giunta regionale sulla sentenza del Tar Abruzzo, favorevole alla regione e al TPL. Per me ha fatto notizia il silenzio, il disinteresse, forse il minimalismo di una sentenza storica del Tar di Pescara che stabilisce, sentenzia, che la condotta della regione Abruzzo relativamente a Tua è stata limpida, lineare, resistente, di qualità rispettosa delle leggi europee ed italiane. Quella che ha fatto in modo da affidare a Tua il TPL della regione Abruzzo. Questo affidamento per un valore di 900 milioni di euro nei dieci anni è stato oggetto di contenzioso da parte dei portatori di interessi privati. La sentenza cancella tutti i ricorsi e spiega che non avevano ragione di esistere rispetto a quei motivi e rispetto ad una indiscutibile legittimazione. Perché questo silenzio? Perché è stata trattata come lampada votiva del cimitero non meritevole di attenzione. Qual è il dispiacere che sta alla base di questa sentenza così chiara, chiarificatrice, disponente ma non indisponente, disponente? La battuta dovesse fare che si è sbagliato il campo di gioco. Noi abbiamo fatto la delibera per fare accadere esattamente questa grande vita di Tua. Non abbiamo fatto la delibera per sbagliare nella speranza che i portatori di interessi privati vincessero. Ma c'è un passaggio della sentenza dove si parla che la delibera ha realizzato una condizione di profitto ragionevole per i privati. Il che significa che prima c'era un profitto irragionevole. Io penso che il mercato debba essere fatto da pubblico potere che si organizza e da privati in una condizione di concorrenza competitiva. Ma non va bene il silenzio della regione. Io ritengo che la regione debba fare pubblico incomio nei confronti di funzionari, dirigenti e direttore che hanno saputo lavorare a questa straordinaria attività, pensata allora e coltivata dopo.